Quando da piccoli si giocava a fare gli animali, tutti scelevano il loro preferito. C'era chi faceva il leone, chi la tigre, chi il lupo, l'aquile, il pipistrello, i serpente. Se volevi fare il paraculo facevi il tardigrado. Se eri proprio stronzo facevi la zanzara, le persone erano autorizzate a darti i cazzotti sui denti e darti della puttana. Ma nella storia umana nessuno, nessuno ha mai scelto di essere un cetriolo di mare. Perché ho tanta ingiustizia? Perché questa cattiveria? Guardate, avete fatto a piange un cetriolo di mare. Oggi sono qui per farvi cambiare idea sul nostro sfigato amico. Oggi la mia missione sarà far diventare il vostro nuovo animale preferito. Il cetriolo di mare. Come fare un cetriolo di mare? Prendete un cetriolo di terra. Se non lo avete, potete sempre usare una zucchina, tanto lui non se la accorge. Tagliatene leggermente le estremità e praticatene un orifizio lungo la sua intera lunghezza. E per bacco! Il cetriolo di mare è già pronto. Ora, non resta solo che portarlo nel suo habitat naturale. Ottimo lavoro. Attenzione, le preparazioni che vi rappresentano potrebbero non essere scientificamente accurate. Ancora ricordo quanti cetrioli di mare morti e spiaggiati trovavamo da bambini. E là noi con i legnetti a punzecchiarli, incapaci di capire che cacchio fossero. Se fossero feci. La prostata di natante che se l'ha sforzato troppo. O magari quella cosa strana di cui tutti i bambini grandi parlavano e che noi non conoscevamo. Aspè, quella cosa misteriosa. Che cos'era, aspè? Com'è che la chiamavano? La vaggaina? La vaggia. Vi sorprenderà sapere che il cetriolo di mare non è un cetriolo. È nemmeno una zucchina. Per questo il cetriolo di mare potrebbe non essere adatto ad una dieta vegana. Il nome cetriolo di mare in effetti li fu appioppato da un paio di bulletti durante gli anni di scuola. Il suo vero nome sarebbe Oloturia. Che in effetti è un nome che fa abbastanza schifo e quindi capisco perché lo prendiamo pure il cuore. E fa parte del film degli Echinodermi, di cui fanno parte anche le stelle marine e i ricci. Però la stella di mare vi piace, eh? Perché si chiama stella di mare. Vi lasciate ingrillettare dalle stelline, eh? Infami. Di cetrioli di mare se ne conoscono più di 1700 specie, ma non tutte si possono trovare in un sexy shop. Anche il maiale di mare è un cetriolo di mare. E questo è molto confusionario. Anche perché tra cetriolo e maiale le battute si spregano. Ma vedi che bello il maialino, che tenerello! Vi sfido a dire che non lo vorreste in casa. Guardate che carino. A dirla tutta, anche questo è un cetriolo di mare. Cristo. Così come noi abbiamo l'uomo nero, loro c'hanno. Lui. Questo signore è stato chiamato dai ricercatori mostro pollo senza testa. Eh no, non sto scherzando. E perché lo hanno chiamato così? Beh, perché i ricercatori hanno una pessima fantasia. Quando un cetriolo di mare non vuole fare i compiti o non vuole andare a letto presto, la mamma gli dice Fila a letto, viene il mostro pollo senza testa a mangiarti. Generalmente il cetriolo di mare è una persona semplice. Ha solo due buchi. Ha le due estremità. Da un lato la bocca, dall'altro l'ano. Semplice, liscio. Quel che entra nella parte esce dalla... Cavolo, ma questa è roba da competizione. È più o meno la stessa cosa che succede a molti dopo il cenone di Natale. Non so se è più violenta o affascinante sta cagarella. Il cetriolo di mare è una sorta di spazzino. Mangia sabbia sporca e la ricaca pulita. Si nutre di piccole particelle, principalmente alghe, materiali di scarto, piccoli animali acquatici. Ed usa quei piccoli tentacolini che circondano la bocca per raccogliere il cibo. Guarda che caglia. Ma come fate a non volerli bene? Dai, altro che gattino. Un cetriolo di mare dovreste... E beh, direi che a questo punto dovreste essere già totalmente innamorati di una simile bestiola, no? No. E vabbè, ma siete incontentabili. Ok, lasciate che vi parli del suo superpotere. Perché sì, ha diversi in effetti superpoteri. Come quello della superrigenerazione. È il grado di rigenerare intere parti del corpo che perde. Che perde per ragioni che poi vi spiego. Però è una cosa incredibile, capis? Alcuni cetrioli di mare sono addirittura in grado di far ricrescere metà del loro corpo. Cosa che viene utilizzata deliberatamente da alcune specie per riprodursi in modo asessuato. Ovvero, si separano a metà e... Uuuuh, due cetrioli. A dirla tutta, alcune stelle marine sono anche più forti di loro. Visto che possono ricostruire il loro intero corpo partendo da un semplice pezzettino. È un po' come se vi mozzaste un mignolo e una copia di voi ricrescesse. Un po' inquietante. Questa cosa sta venendo studiata tantissimo perché se riuscissimo a trovare un modo per fare qualcosa di simile anche noi... Beh, dai, mica male. Tipo Wolverine, gli fa una pippa a questo. E Deadpool? Non si dovrebbe chiamare Deadpool. Si dovrebbe chiamare centriolo di mare. Immaginatevi stare camminando con arroganza per strada quando Paolo Brosio vi si parla davanti con una pistola. Che è una cosa che succede abbastanza spesso, tra l'altro. E a questo punto cosa fate per salvarvi? Correte? Urlate? Lottate? Invocate la Madonna di Louvre? Beh, qualsiasi vostra risposta sarebbe stupida. Qualche dovreste fare è abbassarvi i pantaloni e sforzarvi così forte ed espelli il vostro intestino, gli organi interni e le gonadi comprese. E vedi come fugge Paolo Brosio, beh? Insieme a tutte le altre persone di Parade. E se questa cosa vi sembra strana, beh, sappiate che è esattamente così che fanno alcuni cetrioli di mare. In caso di pericolo, per esempio se un predatore si approccia, questi cetrioli di mare si eviscerano. Espellendo in brevissimo tempo il loro intestino, i loro polmoni acquiferi e parti della loro gonade. L'unica che hanno. Il predatore non solo si distrae, ma si caga proprio in mano e fugge. A quel punto sarà costretto una vita di farmaci e psicoterapia. E comunque sì, il cetriolo di mare ha una sola gonade. Ma la usa bene. Ma scusa Barbascura, ma questo ha cagato i suoi organi interni e da grazo a gonade. E poi come fa? Ma si rigenera, mio piccolo imbecil. Li rigenera con il suo superpotere. Ok, forse è un tattinello eccessivo come autodifesa. Però ditemi se non ne vale la pena. Cioè, immaginate, di colpo, cagare così, tutti i propri organi interni. Immaginate che grande emozione deve essere. Da non provare mai. Nel caso, alcuni possono anche spruzzare fuori dalla cloaca una matassa di filamenti vischiosi, detti tubuli di cuvier, con cui appiccicano il nemico. E nel caso non manchi. Quelli fanno talmente schifo che tanto quello scappa comunque. E no, e non venitemi a dire che fa schifo. E no, insomma, lo fa lui, va bene. Lo fa il cetriolo di mare, e no, che schifo. Ma fate pace con il cervello, l'ho capito. Signor Barbascura, ma a sto punto non sarebbe più semplice spruzzare sempre questi filamenti invece di eviscerarsi? No! Eviscerarsi è bello! Eviscerarsi è figo! È come lanciare i fuochi in artificio dal culo! Ma che ne capisci, tu torna a giocare con le meduse. E comunque solo alcuni di loro hanno il potere dei tubuli. Quindi eviscerarsi. Eviscerarsi è la soluzione a tutto. Molte specie rilasciano un veleno dal corpo quando minacciate. Questo può uccidere piccoli animali. A noi invece può soltanto causare severe irritazioni. Ad ogni modo, io non lo toccherai se fossi voi. La maggior parte dei cetrioli di mare vive poggiata al substrato marino. E... E niente, restano lì. Lì. Il che in effetti sembra abbastanza noioso. Non c'hanno manco la Playstation. Manco un libro, manco delle dita con cui strapparsi i peli. Ma non vi preoccupate, perché non si annoiano. E sì, perché in effetti non hanno un vero cervello. In effetti loro non pensano. Il che sono sicuro che abbia i suoi vantaggi. E nonostante questo riescono ad avere questo incredibile fascino e carisma incontenibile. Il loro passatempo consiste nell'ingogliare acqua e sabbia e ricagarla. Così. All'infinito. Che bella vita! E qualche volta, qualche volta, proprio sei minacciati, eh? Possono addirittura spostarsi! Ma lentamente, eh? Lentamente. Che poi è lo stesso metodo che usa già gli altri in Italia. Attenzione. Allontanarsi dalla linea gialla. Ok. Sento di non stare convincendovi. Però almeno in vita sessuale io sono sicuro che il cetriolo di mare faccia faville, una cosa incontenibile. Oh, già pare un dildo. Sono sicuro che abbia una tempesta d'amore, un turbine incontenibile. Ah no. Ah, manco quello. E vabbè, ma che cazzo no? La rivoluzione sessuale del cetriolo di mare consiste in una botta di erotismo notevole. Uno rilascia le uova in acqua, l'altro lo sperma. Quando questi due si incontrano avviene la fertilizzazione. Mamma mia, che sensualità, che emozioni. Un torbinio d'amore proprio. Ok, sarà poco coinvolgente. Ma comunque la vita sessuale è migliore della tua. E questo è il cetriolo di mare in dolce attesa. Mentre questo è il parto. Ok. Devo ammettere che è meno brutale degli altri filmini che si trovano su internet. Lasciate stare. È un luogo brutto e cattivo questo internet. Il rilascio di sperma o uova, in generale detti gameti, è una pratica abbastanza comune. Tipo, questa nemo ne sta facendo lo stesso. Quel che mi sfugge però, è perché mai quel pesce paia tanto contento di nuotare in un mare di seme. Cioè, non è normale, capito? Quando un cetriolo di mare deve rilasciare i gameti, aspetta che arrivi la corrente alla giusta temperatura. E poi si mette così. Torgido, gaiardo, senza manco l'ausilio del viagra. E la A si lascia andare. E per qualche ragione, anche in questo caso, ci sono dei pesci felici di nuotarli intorno, che io proprio non capisco. Nonostante il suo incredibile carisma, il cetriolo di mare viene bullizzato da altri pesci. E non me lo aspettavo questa cosa, è proprio cattiva. Questo è un pesce perla. Il pesce perla ha paura dei predatori in mare aperto. E soprattutto, è stronzo. Quando vede un bel cetriolo di mare, lui ha... E no. No, quella non è la bocca. In sostanza, il pesce perla fa... E si piazza proprio nel culo del povero cetriolo di mare. Che non capiamo se approvi o meno, perché le sue espressioni facciali sono alquanto... difficili da interpretare, capisco? Dato che il cetriolo di mare fa in genere schifo agli altri pesci, quelli non si avvicinano. E quindi, lui, si piazza nel culo. E sta tranquillo. E al sicuro, capiamo? Mica scemo. Poi, facendo capolino dall'abusato orifizio, chiama anche gli amici. Ma sì, ma dai, venivi tutti qua, tanto c'è spazio, tranquilli. E se poi considerate che il cetriolo di mare, dall'ano, ci respira pure, Beh, abbiamo fatto tombola. Sì, ma pure lui. Ma che cacchio respiri dall'ano, dai. Io non so se abbia una vita più di merda il cetriolo di mare, che si fa insinuare da molteplici individui, o i molteplici individui che scelgono di vivere nel culo del cetriolo di mare. Una cosa è certa. È una vita di merda. Questo è noto in biologia come commensalismo. Il pesce perla attrae benefici dal cetriolo, senza però dargli particolarmente fastidio. Spero. Esiste però un altro tipo di pesce perla che è ancora più stronzo e si comporta da parassita, ovviamente. Visto che una volta dentro il cetriolo di mare gli mangia la gonade. La gonade. Cioè, gli entra dall'ano e gli mangia pure la gonade. Senza un minimo di rispetto. Meno male che a quello gli ricresce, se no. Ed è forse perché stanchi di questi continui abusi che alcuni cetrioli di mare hanno sviluppato denti anali che li hanno fatti di colpo ritirare da tutti i sexy shop in cui li vendevano. Questo adattamento però non ha impedito ad altri parassiti di inguagliare comunque la vita del cetriolo di mare. Perché la vita fa schifo. E visto che i cetrioli di mare sono proprio degli sfigati, c'è anche chi se li mangia. Ah che davvero? Non dovrei più stupirmi di niente, in effetti. Sono noti in cucina come che anche se sembra altro significa vermi di mare. E sono considerati un cibo molto raffinato e dietetico addirittura. Si mangiano sia disidratati che viscideli. Che è proprio una cosa incredibile. Sono considerati proprio delle delizie. Specie se si ha gli occhi a mandorla. E la cosa assurda è che sono famosi per essere assolutamente insapori. Proprio con forse un vago retrogusto di cartongesso. Per farvi capire. Nel Shuyam Shidam Shuyam Shiyam Non so come si pronuncia. Come ingrediente i cetrioli di mare hanno da poco ad alcun gusto. Sono pieni di sabbia e puzzano notevolmente di pesce. Mmm Ottimo! E allora che cazzo li mangiate a fare? Per queste ragioni è anche l'ingrediente più difficile da preparare bene. E ripeto E allora perché cazzo lo mangiate? Ma dico io con tutte le cose che stanno da mangiare il cetriolo di mare ma che cazzo? Insomma il cetriolo di mare è insapore pieno di sabbia puzza e l'unico modo per renderlo saporito è riempirlo di spezie. Ma allora a sto punto mangia di asfalto e guarda prendi asfalto lo ricopri di spezie la suona della scarpa guarda una cosa incredibile la ricopri di spezie guarda una cosa incredibile sa di spezie proprio incredibile Senza considerare poi che ci sono stati dei casi in cui a tavola ci sono finiti quei cetrioli di mare velenosi di cui vi avevo parlato prima. Ah sembrerebbe che le oloturie seccate abbiano un prezzo compreso tra i 10 e i 600 dollari al chilo alcune specie addirittura 3000 dollari al chilo voglio proprio un cetriolo di mare e questo perché ripeto sono considerati delle delizie e in alcuni ricevimenti buffet è considerato proprio il piatto forte tipo noi abbiamo la torta e i 100 dollari al chilo di mare a causa del loro sovrasfruttamento un team di ricercatori ha stimato che circa 16 di queste specie di cui 9 che vivono nella grande barriera corellina saranno a breve a rischio estinzione però 1 non sono degli orsacchiotti 2 non mangiano bambù e 3 non rotolano facendosi beffare il loro sovrappeso 4 non ci vendono i peluche e quindi chi se ne frega della loro estinzione dai e si però è un problema perché questi si mangiano il materiale morto presente nella sabbia la buttano fuori pulita quindi purificano la sabbia inoltre alcune delle sostanze che producono vengono mangiate e rientrano all'interno del ciclo biologico di altri organismi inoltre loro hanno la capacità di ridurre il pH dell'acqua che invece sta aumentando a causa dell'inquinamento e dell'emissione di CO2 nell'aria quindi dell'inquinamento che noi produciamo hai capito il centrino di mare potrà pure non avere un cervello avere una vita sessuale indiscutibile fare il popò in maniera pilotecnica farsi disinuare da altri animali e soprattutto respirare dallo stesso buco da cui caga però lui almeno serve a qualcosa lui salva l'ambiente lui salva l'ambiente addirittura dall'inquinamento che noi produciamo e tu invece tu a cosa servi? tu a cosa servi? il centrino di mare è più utile di te quindi amate il centrino di mare amatelo non letteralmente cioè non vorrei che qualcuno vedesse la sua forma facesse cose strane io mi dissocio completamente un salutazzo a tutti da barba scura X hai visto? tu credevi che il centrino di mare fosse uno stronzetto senza nulla da raccontare e invece Sbam un carisma insospettabile se non ti ho convinto ora sei proprio una brutta persona vattelo dire il centrino di mare è il tuo nuovo animale preferito lo pretendo e comunque capiamoci nessun animale serve propriamente a qualcosa ma in questo caso Sbam è il centrino di mare